Tutti a Ostia Beach, una produzione World Art, abbiamo con noi una delle protagoniste del film, Simona Mancini, in arte Marika. Chi è Marika? In realtà Marika è una ragazza normalissima, una ragazza che lavora, una ragazza fidanzatissima, con un ragazzo che subisce quello che ha il suo carattere abbastanza volitivo. Però poi in realtà è dolcissima, con questa parvenza tipica di quelli che sono i coatti, i coatti romani, che sembrano tutti un po' burberi, un po' sono tutto io. È un personaggio molto simpatico. Quanto di Marika c'è in te? Beh, innanzitutto io sono romana, romana come si dice da sette generazioni, quindi la romanità c'è. Però sì, a volte posso sembrare un po' così, un po' una che demanda, un po' una rompiscatole, c'è un po' di quello, sì. Quindi ti è rimasto qualcosa di Marika nel personaggio, sicuramente che te lo porti dietro? Beh, mi è rimasto tutto in realtà. Quindi non è stato difficile interpretare Marika in tutti a Ostia Beach? Ma da principio sì, perché ti devo dire la verità, quando mi è stato chiesto di improvvisare in realtà nel provino la coatta, mi sono trovata un attimo così e ho pensato, ma la coatta è diversa da quella che parla romano. Però poi bravissimo il regista, bravissimi tutti. Non è stato facile, no, non è stato facile, però poi alla fine sì. Bene, allora con il tuo entusiasmo, che si evince dal tuo sorriso, lancia un messaggio ai potenziali spettatori. Perché dovrebbero venire a vedere il film? Perché è un film comico, perché vi fa ridere ed è importante ridere. E non è retorica, ma in questo momento ci vogliono le risate. Perché siamo tutti bravissimi attori, siamo sconosciuti, ma soprattutto perché ci crediamo tutti quanti. Abbiamo fatto della recitazione la nostra vita, ce l'abbiamo messa tutta e va sicuro che ne vale la pena. Veniteci a vedere. Grazie Simona Mancini. Grazie a voi. Tutti a Ostia Beach, vi aspettiamo. Grazie a voi.